il fruminiano del nuovo corso fa un po' di fatica ma con l'orgoglio e la tradizione di una società da sempre protagonista nel calcio dilettanti prova a risalire la china nel girone A di promozione la Fulgor che ha iniziato decisamente con un piglio importante e questo campionato da neopromossa punta a confermarsi che adesso pone davanti al portiere in solitato l'estudine De Michelis su quale c'è l'intervento un doppio intervento di Perusini si è reso protagonista di due parate da campione doppio intervento da campione di Elia Perusini classe 97 l'attacco della Fulgor che adesso riparte ma Duca fa filtrare un pallone verso Rinaldi e il fruminiano passa in vantaggio su una errata ripartenza della Fulgor per approfittarne adesso De Michelis in area Perusini non prende il pallone va direttamente sul corpo di De Michelis da rivedere questa situazione il calcio d'angolo incarica De Michelis in due mancano il pallone per gli ospiti che hanno iniziato a spombattuto questa ripresa ancora un altro tiro e ancora Perusini si distende alla sua destra ed è via parlando anche con i dirigenti la nuova compagine societaria del fruminiano nel pre partita mentre c'è il gol sul break il gol del pareggio della Fulgor l'ha realizzato Cozzi su direi dormita del del fruminiano trova il fraseggio sul lato di sinistra Graneri Graneri va a cercare il tiro e ancora Perusini si distende stavolta la sua sinistra pallone arriva nel cuore dell'area del fruminiano e c'è subito il raddoppio di testa ha segnato Silva con una deviazione che al numero 6 Balbieri segnato lui una deviazione su questo cross scodellato a centro area rientra Graneri ha il problema di liberarsi della marcatura di Facinoli Graneri viene abbattuto e qui c'è la ammunizione per Facinoli e il calcio di rigore c'è Capitan Gimillaro lui che spara una bordata di sinistro all'incrocio dei pali a favorire l'intervento di Graneri che arriva davanti al portiere Graneri e ancora Perusini si distende la sua sinistra e impedisce il gol al numero 17 della Fulgor ora vabbè che ci sono state 6 sostituzioni occhio al quarto gol della Fulgor questo ad opera di Gabriel Cic di qualche passaggio perché l'arbitro sta consultando il suo cronometro e allora la partita finisce qui la Fulgor espugna Fluminiano 4 a 1 il punteggio e quindi dopo aveva tutto il casarsa batte anche l'undici di mister Martinelle